Questa è un ambiente della Fondazione Michetti che ha voluto quest'anno dedicarmi un omaggio alla mia attività artistica, alla lunga ricerca ormai del mezzo secolo. Ho pensato non di fare una mostra perché il mio tema fondamentale è l'ambiente e quindi ho pensato delle opere che reinterpretassero sia spazialmente che favoristicamente questo ambiente dato. Sono intervenuto a livello fisico ma anche a livello d'immagine, cioè ho cercato di collocare opere che appartengono alla mia storia a partire dagli anni 60-70 per arrivare a quelle contemporanee, distribuite in modo da creare un percorso mentale che riuscisse a dare anche delle sollecitazioni di carattere emotive oltre che intellettuale. Il titolo che ho voluto dare è Alcaubaleno Urbano, Urban Rainbow. Tengo sempre a precisare che si tratta di un arcobaleno culturale perché mentre quella naturale è costituita da sette colori, quelle che appaiono nel cielo dopo la pioggia, nel mio caso l'arcobaleno è costituito da 12 colori in doppia serie incastrato secondo un ordine programmato, quindi è un'opera, è un'elaborazione intellettuale, quindi artistica, di un insieme di colori. Per cui la mia definizione vuole indicare questo aspetto.